Allora Mirea non c'è più, è andata via, è rimasta solamente Valentina, pensi che sia la volta buona? Ma io mi auguro veramente di sì, ora chiedo scusa a Mirea, si allega a sua famiglia perché appena le ho promesso un limone duro è veramente svanita qui sull'isola proprio per confermare la regola e ormai Valentina non lo so Ormai? No, no, c'è nel senso Oddio ormai, l'ultima Valentina! Non so se sia amante dell'ordido Ma cos'è che ti affascina di Awe? Dimmi E' fondamentalmente la sua magrezza perché so di rimpilzarlo a dovere Ecco, ci sarà qualche altra cosa oltre alla magrezza? No, poi devo dire a differenza di com'è entrato il volto, questi occhi così profondi mi ispirano un po' Certo potrebbe essere mio figlio ma oggi le milf vanno di moda, Vera Gemma me lo insegna Quello che Vera lascia Valentina raccoglie, no? Vero, Vera? Finalmente Valentina, finalmente inizi a capire qualcosa Guarda, ho assunto anche la posizione corretta, va? Brava amore, brava Guarda Valentina, noi ti abbiamo ascoltato, hai detto che hai promesso un bagno nuda Se arrivate in finale, vorrei fare un po' come Sabina Ferilli che disse che si spogliava nuda allo scudetto della Roma Poi aveva un body color carne, si può fare? Eh no, il body già ce l'hai quindi Nuda totalmente? Certo Guarda, con la fisicità che ho raggiunto anche davanti a tutta la playa Oh, get back!